Per il prossimo incontro abbiamo all'angolo rosso per la Fiermonte Box De Paoli il suo avversario all'angolo blu per la fortitudine Andrea Cese è la prima ripresa 3 colpi, 3 colpi San Andrea, 3 colpi, 3 colpi, 3 colpi, 3 colpi Daniele Carnevale al tavolo dei giudici 3 colpi, guarda, guarda fai così faccio, va bene così faccio, dritto, dritto eri sbracciate e dai, io stessa, non mettere poco, destra, 1,2,3, continua, 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 sempre, va bene così, vai, di destra, oh, non dopo mezz'ora, subito, inizi, io prego, si metti, bravo, 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 fine prima di senza. Seconda ripresa, un po' di carta al ring, per favore, Silvia, un po' di carta al ring, per favore. Silvia, bravo, 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 tieni su con le mani, Andrea, tieni su con le mani, e poi, con il suo posto, con il suo posto, un po' di carta al ring e, con il suo posto, e poi, con il suo posto, e poi, con il suo posto. No, no, ma sta a posto, sta a posto, se continui a sanzionare. Dai, vi saluto. Tranquillo, un po'. Tranquillo. Bravo. Bravo. Vieni la banda del tuo controllo, tieni le mani per andare a scuola. Scello. Un'altra parte, tre. Bravo, bravo. Grazie. Emanuele. Dai. Bravo. 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 Vince per ferita all'angolo rosso De Paoli. Facciamo un bel applauso ad Andrea Cese che è stato costretto a fermarsi per una ferita al Grazie.